Ciao ragazzi, amiche ed amici di anime manga.it ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il nostro canale Hirume Akumetsu qui con voi per... Stiamo per vedere per la seconda volta Ebbene sì, perché stiamo per rivedere Penguin Highway, il secondo titolo della rassegna 2018-19 di Anime al Cinema Stiamo per rivedere perché l'abbiamo già visto Al Luca Comics Se ci avete seguito Sicuramente lo sapete già Però è giusto ricordarvelo Soprattutto per sentire il doppiaggio italiano Assolutamente sì, abbiamo sentito qualcosina dal trailer Però ci aspettiamo ben altro Ben Affleck, come direbbe il bombaccio alla Madonna Dal film in sé per sé Film che già abbiamo trovato straordinario Vedetelo domani Ancora domani al cinema Quindi oggi noi stiamo in questo momento 20 Ma anche 21 novembre E niente, quindi tra pochissimo per voi Scoprirete la nostra recensione a caldo Del doppiaggio italiano Oltre che doppi di Penguin Ciao Ciao ragazzi Ragazzi come volevasi dimostrare è stata di nuovo un'esperienza bellissima Sconvolgente Davvero molto molto emozionante Soprattutto è qualcosa che io personalmente mi aspettavo ma ovviamente la cosa L'aspettativa è una cosa quando questa viene realizzata Sì, commovente Lo dico tutto Ovviamente il doppiaggio italiano Sono avverbi Sono avverbi Il doppiaggio Assurda grammaticalmente Il doppiaggio italiano Permette allo spettatore di fruire ancora più liberamente E più intensamente Del film Che già in versione originale Ci ha dato tantissime emozioni stupende Ma che vengono Sì, ovviamente perché uno non deve distogliere l'attenzione dai sottotitoli Adesso siamo attaccati da tutti Perché la gente vuole delle cose che aveva ormai sottotitolate Noi invece vogliamo il doppiaggio italiano perché siamo pigri Ma non è neanche per quello Io sono pigro Lui è pigro Io guardo sottotitoli da una vita E questo non mi ha mai distolto dall'apprezzare gli anime e i film d'animazione Ciò non toglie che Il doppiaggio italiano è ovviamente il migliore al mondo Qui lo dico e non lo nego E ovviamente questo non falso Che meravigliarci E emozionarci E in questo film a maggior ragione Si riesce davvero a vivere le emozioni Di un film che è davvero ricco di emozioni, di azione Quindi dovete assolutamente guardarlo Il 21 ovviamente Dovete assolutamente guardarlo al cinema E ancora una possibilità Sul nostro sito potete trovare il coupon Che vi permetterà di ottenere uno sconto sul biglietto Basta recarvi in cassa con il nostro coupon stampato E otterrete lo sconto Quindi, grazie a vedere Grazie a te, grazie a te Assolutamente Mi accudo e quindi non posso far altro che Ringraziarvi per aver visto questo film Commentate Da Kumetsu Fateci sapere ovviamente la vostra Questo film, questo video Se avete visto anche il film Vi ringraziamo anche per aver visto il film E vi ricordiamo anche che domenica Domenica prossima No, non domenica prossima Ma l'altra ancora Ci sarà la nostra video recensione completa Di Penguin Highway Quindi, alla prossima Guardatela